Le rappresentanze sindacali e aziendali di Fabi, First, CSL, Fisac, CGL e AIPO, Alpe Adria Benca hanno avuto un incontro con i componenti tra la prima commissione del Consiglio regionale con la Presidente della Regione, D'Ebora Seracchiani, tra gli auditi sulla procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge 223-1991, già iniziata per 110 su 280 dipendenti italiani della Banca Austriaca, 50 su 186 in Friuli, Venezia e Giulia, 35 su 48 in Veneto, 25 su 42 in Lombardia, per altre 34 invece si prospetta il riempiego in Banca Valsabina di Brescia che ha acquistato 7 agenzie, 2 a Brescia ed una rispettivamente a Bergamo, Verona, Vicenza, Schio e Modena per un portafoglio di mutui in bonus di circa 150 milioni di euro. Per gli altri il licenziamento è previsto tra il 2017 e il 2018. Da parte del gruppo bancario quantomeno l'impegno nei confronti dei clienti del rimborso integrale dei loro depositi. Hypo Altria Bank è stato ricordato dagli intervenuti e una banca di proprietà dello Stato d'Austria con sede nel Palazzo di Vetro costruito a Tavagnaco e 26 agenzie nel nord Italia. In Austria e nei Balcani le filiali del gruppo sono state vendute, contrariamente si è deciso di chiudere Hypo Bank in Italia e non è dato sapere perché. L'interlocuzione con l'azienda infatti è pari a zero, hanno lamentato i sindacati anche perché non interfaccia giusto. Solo le persone pagate per fare ciò che il governo austriaco ha deciso, licenziare la banca, praticamente non c'è più, non c'è un liquidatore, sebbene la liquidazione sia iniziata ufficialmente nel 2013 e i clienti scappano. Ciò che i rappresentanti dei lavoratori chiedono è la trattativa, prenda la giusta dimensione. Ma non si tratta di un dialogo tra la regione Friuli-Venezia e Giulia e Hypo Bank, ma tra il governo italiano e il governo austriaco che si appella a regole comunitarie sugli aiuti di Stato interpretate a proprio vantaggio. Siederemo al tavolo con il Mise, il Ministero dello Sviluppo Economico, hanno detto già sapendo che potremmo parlare solo di licenziamenti. Speriamo almeno che concedano gli ammortizzatori sociali che per il settore bancario non sono automatici, ma frutto di accordi sindacali. Ci avete sostenuti sino ad ora, hanno chiosato, rivolto in particolare alla Presidente Serracchiani. Confidiamo che la vostra attenzione rimanga alta. Cercate di fare al nostro governo uno scatto di orgoglio verso l'Austria e continuate a verificare la possibilità di un accordo istituzionale con una soluzione diversa dalla liquidazione come la vendita di altri rami d'azienda che permetta di garantire la ricollocazione dei lavoratori.